Pinto sul destro di Vantaggiato, forse l'unica fiammata vera e propria del Padova, intanto Pasquato, Tunnel ai danni di Rigoni, poi suggerimento ancora per Vantaggiato, area di Rigoni, poi Vantaggiato, Palo, altro Palo per Vantaggiato. Dal secondo posto dell'Empoli, Casarini, bella accelerazione, molto bene in scivolata Melchiorri, ferma l'avversario e permette a Padova di ripartire con Pasquato, il pallone per Improta, liberissimo Improta, dentro l'area, Improta, sbaglia un'immagine di Redino, comunque poi sarebbe da valutare la volontarietà difficile da riscontrare in un tiro così ravvicinato, Pasquato con il sinistro, non è male il cross, secondo Palo. Spara dentro, Venussi, la sfonda, non è male di Bianchi, Bascia, allarga su Pasquato, Pasquato col destro, Dossena. Effettuerà un cambio a centrocampo, forse con Iori, intanto il triangolo, Pasquato, va al tiro, Pasquato, a fil di palo. Tira che è una delle squadre, non vorrei dire rivelazioni perché ormai è una conferma, una delle squadre sicuramente migliori di questa stagione della Serie A. Tre minuti intanto di recupero con Cessi da Vantaggiato, si continua a giocare, Pasquato prova con il destro, Pasquato! Carini, Carini, cerca il lancio lungo, sta arrivando Jelenic, sbaglia la difesa, parte il tiro, c'è il gol del vantaggio. Bene dietro, Cuffa, riesce ad allargare Perciano, alza la testa, vuole il pallone in mezzo, vantaggiato! Che recupero di Mesa Villa, poi ancora Pasquato in aria, Pasquato! Sorensen, ancora Cherubin, Pasquato, primo pallone per Pasquato, va in porta a Pasquato! Grande conclusione! Quelli del Padova erano tutti molto avanti per poter pressare alti e dare attenzione. Lo scatto di Pasquato, velocissimo, Pasquato! Cato subito la profondità, Ristoschi, Sekas, Crimi, sul suo tocco però c'è Pern, ancora Padova, Pasquato, salta l'avversario, Pasquato, ne salta un paio, Pasquato, parte il tiro! Salviato indietro per Mazzoni, subito è battuto a profondo a cercare dell'agnello, in questo caso poteva starci il calcio di punizione, attenzione a Pasquato, limite dell'area, Pasquato, pallone sul destro, Pasquato ancora, il pallone in regua! Buono il controllo, l'apertura centrale per Sanzovini, un po' in ritardo, allora Padova provava ad approfittare dello sbilanciamento avversario, ancora con Pasquato, a grandi falcate modesto in sovrapposizione, Pasquato va per 10 centrali, ancora Pasquato, provava ad entrare in area di rigore, Pasquato ancora si gira! Dovesse decidere di battere lui, 4 uomini in barriera, parte Benizio, lascia Pasquato, la battuta e il gol di Pasquato! Fotto sul cronometro, possibilità per il Padova, sospiro per Pasquato che poi va in porta, Sekulin! Sempre in 6, giocatore del Padova, salta in area avversaria, Pasquato direttamente in porta, Sekulin ci arriva, poi il pallone è messo in rete!